ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video io sono morgana e questo è il mio canale di cartomanzia oggi andremo a rispondere alla domanda sull'amore cosa prova per me questo ricordo sempre un video interattivo cioè dedicato a tutte le persone che vogliono sapere la persona a cui loro tengono cosa prova per lei questo video è dedicato sia che voi che state guardando siate un lui o una lei vi rapporterete sempre alla persona a cui tenete ed è un video in perpetuo significa che è valido per le persone che lo vedono adesso per le persone che lo guardano fra una settimana fra un mese o fra un anno o quantomeno quando il destino gli vorrà fare sapere cosa la persona a cui voi tenete prova per voi bene faremo tre varianti con tre mazzi di carte diverse e ognuno di voi sceglierà una variante in base all'intuito in base a come io sistemo le carte oppure in base al segnalino che metterò su ogni variante bene ricordo a tutti che io scelgo le carte sempre in modo casuale intuitivo come in quel momento l'intuito mi dice e le posiziono anche in base a come mi dice l'intuito prenderemo due carte dalle carte del mistero due carte dalle sibille mi raccomando lasciatemi tanti commenti fatemi sapere se volete dei video particolari io cercherò in tutti i modi di girare il video della vostra domanda in base anche ad altre richieste che mi vengono fatte analoghe cercherò di fare un titolo più appropriato possibile bene adesso potete mettere in pausa il video e scegliere la variante che più vi attira ecco che più vi attira bene pensate intensamente alla persona di cui volete sapere cosa prova per voi e andiamo a leggere la prima variante allora per le persone che hanno scelto la variante con la farfalla vediamo cosa prova la persona per voi diciamo che avete avuto come uno stacco avete avuto come un uno stacco di questa situazione avete avuto come un litigio come una discussione abbastanza accesa e questa situazione abbastanza accesa questa discussione abbastanza accesa che c'è stata fra di voi ecco che vi stanno facendo aspettare e tormentare perché voi vorreste una una reazione da parte della persona è però la persona è molto molto preso di orgoglio una persona molto superba e orgogliosa e voi state aspettando e vi state tormentando o anche potrebbe essere la cosa contraria diciamo che voi siete stata la causa scatenante di questo allontanamento e la persona a cui voi tenete in questo momento è piena di orgoglio e di tormento e oltretutto anche voi siete una persona orgogliosa e tormentata e perciò vi siete trovati due caratteri che fondamentalmente si scontrano e fondamentalmente sono un pochettino superbi e si tormentano per questa perché ognuno di voi due vorrebbe che l'altro facesse il primo passo ecco qua che c'è aria di cambiamento c'è aria di una notizia che vi sta per arrivare questo in questo caso non è un ladro una carta negativa ma è la carta del cambiamento di questa situazione è la novità la notizia la novità che vi dovrà arrivare adesso andremo a vedere con questa carta che tipo di novità sarà perché fondamentalmente voi o avrete una novità che vi sta per arrivare di un cambiamento di questa situazione o fondamentalmente avrete la notizia che la persona a cui voi state pensando e volete sapere cosa prova per voi sta cambiando atteggiamento sulla situazione che c'è in ballo ecco la casa la notizia vi arriverà proprio in casa sarà un qualcuno che verrà a casa vostra e vi dirà specificatamente vi darà una notizia che fondamentalmente la persona a cui voi state pensando e vi darà delle notizie su questa persona adesso che le notizie siano positive o negative questo la carta non me lo dice e però io chiedo cortesemente a tutti quelli che hanno una situazione analoga magari di scrivermi un commento così io mi rendo conto se la consultazione è andata a buon fine cioè che io sono stata abbastanza chiara oppure se magari mi devo spiegare meglio nel senso che c'è stata una situazione precedente che vi ha fatto allontanare o per colpa di lui o per colpa vostra questo non me lo dice però attualmente si sta avvicinando un cambiamento di questa situazione una notizia che vi verrà proprio portata in casa direttamente da lui da altre persone questo la carta non me lo specifica bene questo era per chi ha scelto la variante con la farfalla adesso andiamo a leggere la variante cosa prova per me per chi ha scelto la margherita o il girasole margherita girasole sempre quello è adesso andiamo a vedere gelosia e tormento e voi siete una allora se siete una ragazza voi vi state tormentando proprio di gelosia voi avete una crisi di gelosia per questa persona diciamo che siete se siete una donna siete fondamentalmente gelosa del vostro uomo del vostro ragazzo del vostro compagno se invece siete un uomo voi provate troppa gelosia nei confronti della vostra fidanzata di vostra moglie della ecco cosa prova la persona diciamo e questa c'è come una crisi che si sta diciamo aprendo oppure si è appena aperta per questa gelosia cioè è come se la persona si fosse allontanata perché c'è troppa gelosia e questa gelosia porta a dei tormenti a delle situazioni non piacevoli e se io devo dire cosa la persona a cui voi state pensando prova per voi è una persona abbastanza gelosa di nuovo la matrice due volte diciamo che qui fondamentalmente scopriamo l'altra carta impedimento allora diciamo che fondamentalmente la persona a cui voi state pensando se voi volete sapere la persona cosa prova per voi prova un sentimento prova un chiamiamolo fra virgolette amore però questo amore è un amore malato è un amore malato perché ci sono in mezzo delle gelosie gelosie anche rivolte ad altre donne perché qua mi escono due donne due donne e queste due donne che magari sono gelose fra di loro oppure portano in questa relazione una forma di gelosia parole che poi magari all'altro fanno pensare a delle situazioni ambigue ecco che non portano niente di buono perché la riunione cioè anche se voi rimanete insieme ci sarà sempre l'impedimento dovuta a questa gelosia che o è instaurata proprio nella coppia nella persona a cui voi state pensando a vostro marito perché questo questo video è anche dedicato a persone che già stanno insieme ecco un marito che vuole sapere la moglie la moglie che vuole sapere un marito ecco che però ci sono troppe gelosie queste gelosie anche se la coppia rimane insieme anche se la coppia rimane insieme però porta sempre impedimenti cioè anche se la situazione si sistema momentaneamente ecco che poi alla prima parola che viene capita in un modo diverso ecco che la gelosia torna fuori e si ritorna punte d'accapo a essere tormentati e in crisi adesso andiamo speriamo che il cuore rosso sia di buono auspicio adesso andiamo a vedere la variante per chi ha scelto il cuore rosso cosa prova per me allora il pensiero c'è adesso vediamo se questo pensiero è positivo o negativo questo pensiero e porta alla malinconia nel senso questo pensiero vi porta il vostro pensiero è legato a una situazione del passato è legata a una situazione che avete vissuto a una persona che avete vissuto nel vostro passato e in questo momento la vostra mente sta andando nel nello scrigno dei ricordi a diciamo a ricordare alcune delle avventure passate con questa persona che vi porta un po di malinconia perché magari per una qualche situazione la storia non è andata avanti per voi o per lui o per lei ecco qua che torniamo sempre torniamo sempre allo stesso punto qua la gelosia diciamo che il punto focale di questo di questa di queste stese diciamo che è la gelosia perché diciamo che fra di voi c'è stata una persona infida che per gelosia diciamo è riuscita a rompere questa questa coppia che fondamentalmente infatti voi ce ne state facendo una malattia fra l'altro ecco che è voi per per questa situazione che è avvenuta nel vostro passato a cui voi in questo momento state pensando pensate pure che è stata una terza persona a mettersi in mezzo e a rovinare tutto ed è stato per una questione di gelosia ha messo in giro una voce che non era vera tutto quello che volete ma voi ci state male ci state veramente tanto male diciamo che la persona a cui voi pensate in questo momento non si farà sentire non non è più nella vostra vita attuale è inutile che voi ci state aggrappati e ancora diciamo tenete ambito a questi pensieri magari di un possibile di un possibile ritorno perché a oggi la persona non ha intenzione di tornare siete voi che ci state male mi dispiace per queste due ultime stese perché purtroppo quando le stese sono negative o magari non non sono ben chiare lo so che non è facile rapportare quello che io dico alle vostre situazioni attuali ma come dico sempre voi vi dovete focalizzare o su una persona o su una situazione non andate a vedere più stese perché più stese potrebbero essere completamente diverse cioè nella stesso nello stesso video quando io faccio più stese voi ne dovete scegliere una non scegliere più stese nello stesso video perché vi potrebbero confondere perché un video una stesa potrebbe essere completamente diversa dall'altra vi dovete diciamo agganciare al vostro karma del momento e cercare il più possibile di rapportare la stesa che avete scelto alla vostra realtà bene anche per oggi questo video è finito io vi lascio e vi rimando al prossimo consulto e ci vediamo alla prossima